Musica Benvenuti da Autogrifone, sono Fabio Cattoli Vorrei intanto ringraziarvi tutti per le numerose visite nella nostra nuovissima sede in via Vignolese 1144 Autogrifone è l'unica concessionaria ufficiale di vendita e assistenza Kia Motors e Subaru per Modena e provincia Ottobre rigido, nonostante ciò in Autogrifone partiamo col piede giusto Nuovissima Kia Sportage Hitech, sarà la grande novità di fine anno Ne abbiamo tantissime impronte a consegna, bianco perla, nero perlato e grigio scuro 4000 euro di incentivo sconto, vi aspetto numerosi per venirlo a toccare con mano Test drive a disposizione, i nostri consulenti a completa disposizione Sportage Hitech nasce di serie con tutto Vettura, rapporto qualità prezzo incredibile Interni in pelle esclusivi, navigatore con 7 anni di aggiornamento gratuito e 7 anni di garanzia completa Kia Motors 4000 euro di incentivo sconto Ottobre, novembre e dicembre Kia Rio 1200 eco GPL, 1100 turbodiesel Ne abbiamo tantissime con prezzi speciali Pagamenti incredibili Test drive a disposizione Tutti i colori che volete, ne abbiamo un'ottantina New Kia Rio, 2700 euro di incentivo sconto a rotamazione Pagamenti strepitosi fino a 84 mesi Venite a toccarla con mano Test drive a disposizione New Kia Sorento, il SUV per antonomasia in casa Kia Motors, 7 anni di garanzia Bellissimo, venite a provarlo New Kia Seed Sport Wagon, GPL, turbodiesel, 7 anni di garanzia New Kia Soul, la nostra Glam autovettura in casa Kia Motors, 1.6 eco GPL, 1.6 diesel, 7 anni di garanzia La nostra City Car, il piccolo gioiellino in casa Kia Motors Picanto, 1.000 benzina, 1.000 eco GPL, 7 anni di garanzia, da 8.950 euro Nuovo Kia Carens, 1.6 GDI e 1.7 turbodiesel, 5 e 7 posti, 7 anni di garanzia New Kia Venga, 1.4 benzina, 1.4 eco GPL, 1.4 turbodiesel, 7 anni di garanzia, da 12.500 euro Ci trasferiamo nel reparto Subaru, leader al mondo dei quattro ruote motrici E vi presentiamo in anteprima assoluta, non è ancora in commercio La nuovissima Subaru Levorg, 1.6 turbo, iniezione diretta a 170 cavalli Trazione integrale permanente, cambio automatico linea tronic, 7 rapporti Prezzo di lancio strepitoso, 24.990 euro Venite a provarla in anteprima assoluta da autogrifone L'unica concessionaria ufficiale Subaru per Modena e provincia Via Vignolese 1144 a Modena Non mi rimane altro che aspettarvi numerosi presso la nostra nuovissima sede autogrifone In via Vignolese 1144 a Modena A due passi dal grappolo dell'Uva, direzione centro E a due passi dall'uscita a Modena Sud, direzione sempre centro Dimenticavo, martedì 16 febbraio, ore 20 Vi aspetto numerosi per l'inaugurazione della nuovissima sede autogrifone E per scoprire insieme la grandissima novità 2016 All New Kia Sportage Arrivederci All New Kia Sportage